Uno degli aspetti più interessanti delle relazioni è la gelosia. Ho fatto anche un altro video su questo tema, gelosia e possessività. Andatevela a guardare perché è veramente interessante e spiega altri aspetti che poi si collegano a quello che sto per trattare in questo video. Ma uno degli aspetti fantastici è la gelosia retroattiva. Non avete idea di quanti messaggi mi arrivino con Luca, sono gelosa o geloso, ma soprattutto sono donne, del passato del mio fidanzato. Perché? Beh, innanzitutto qui siamo in livello disagio medio-alto. Ma una cosa da prendere in considerazione è innanzitutto che la gelosia è un tratto narcisistico. Attenzione, non sto dicendo che chi è geloso è narcisista. Sto dicendo che la gelosia è un tratto narcisistico, perché noi mettiamo al centro noi stessi le nostre esigenze rispetto a quelle del partner. Attenzione a non fare diagnosi avventate. Detto questo, perché siamo gelosi del passato del nostro partner? O perché siamo gelosi del fatto di aver sognato qualcosa, che il nostro partner andasse con qualcun altro, ci svegliamo, siamo veramente arrabbiati. Che ha la gente che non va? Beh, quello che la gente ha che non va è che è profondamente insicura. Quando noi abbiamo così tanto bisogno di controllo del nostro partner, quando sentiamo addirittura l'esigenza di controllare il suo passato, vuol dire che siamo profondamente insicuri. E fondamentalmente nulla di quello che il partner può fare potrà mai darci sicurezza. Quindi è inutile cercare di lavorare sul rapporto, perché il rapporto non c'entra nulla. Lì dobbiamo lavorare su noi stessi, sulla nostra sicurezza personale e su alcuni tratti narcisistici del nostro carattere.